Sono Pia Raffaele Spena, ho 45 anni, vivo a Milano e da circa 15 anni sono un paziente stomizzato. La mancata approvazione del patto della salute impatta in maniera negativa anche nella vita quotidiana di noi stomizzati, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza ambulatoriale. Col passare degli anni gli ambulatori presenti nei distretti si sono dimezzati e su tutto il territorio nazionale la presenza di ambulatori è a macchia di leopardo. Il fatto di non avere poi regole certe sui livelli essenziali di assistenza aumenta il rischio che l'assistenza a noi pazienti col tempo possa scomparire. La qualità della vita si abbassa e i costi per la gestione della condizione sono sempre più bassi. Quindi rispettiamo i patti.